Siamo qui con Daniele Iannone dei Gunners, buona vittoria, risultato pirotecnico dal campo, che partita è stata? Sì, è stata una partita rocambolesca, abbiamo iniziato forte, 2-0, purtroppo hanno recuperato, siamo arrivati sul tre pari, eravamo stanchi perché poi loro, una squadra agonistica, una squadra di corsa, ci hanno messo sempre in difficoltà, noi abbiamo mantenuto benissimo tutte le posizioni del campo, dalla difesa all'attacco. Abbiamo giocato di contropiede, era l'unico modo per metterli in difficoltà perché anche loro avevano dei giocatori in difesa che tenevano benissimo la posizione, potevamo soltanto giocare lancio lungo e pedalare, questo era stasera, abbiamo fatto questo, per fortuna abbiamo sfruttato le caratteristiche del nostro difensore che aveva il lancio lungo, aveva il calcio da area a area e per fortuna in attacco non si sono fatti parlare dietro, tutti i palloni che sono arrivati li hanno controllati, li hanno gestiti e spesso li hanno messi anche dentro. Grazie a Daniele Iannone e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie, grazie a voi.